E ora torniamo al Natale, l'atmosfera natalizia che si sente già in tutta la provincia, alla corte ospitale di Rubiera, è stata inaugurata una suggestiva mostra di presepi artistici napoletani. Una mostra di presepi artigianali provenienti da Torre del Greco in provincia di Napoli è stata inaugurata la corte ospitale di Rubiera. Il presepe napoletano fu reso famoso dai Borboni a Palazzo Reale nella reggia di Caserta. Si caratterizza per la sua teatralità, arricchita dalla tendenza a mescolare il sacro con il profano, a rappresentare la quotidianità che animava piazzette, vie e vicoli, tanto che apparvero nel presepio statue di personaggi del popolo, gli osti, i ciabattini, i falegnami, le lavandaie e i contadini, ovvero la rappresentazione degli umili e dei derelitti. Alcune delle opere della rassegna di Rubiera sono state esposte in Vaticano e a Stoccarda. L'iniziativa è stata proposta in collaborazione con l'associazione culturale Campania in Cammino, con sede a Reggio, che si propone di favorire l'integrazione e la solidarietà sociale dei campani residenti in provincia e la diffusione della cultura di quella regione. La rassegna a ingresso libero resterà aperta il sabato e la domenica mattina e pomeriggio, nei feriali al pomeriggio dalle 16 alle 19 fino al 18 gennaio prossimo. Grazie a tutti.